Siamo nel Cuneese, a Monastero Vasco, in casa della Hobby Caravan Motors, concessionaria di molti marchi famosi, tra cui i prestigiosi tedeschi Nisman Bischoff. Su questo nome si apre il sipario della giornata con la veronese Monica Lösch, responsabile per l'Italia del marchio tedesco, l'export manager Cécile Rousnet e uno dei titolari del centro vendita, Ivano Do. Nell'occasione viene presentato il motore Omarto, allestito ad hoc per il tour mondiale di mountain bike della Giant Italia Team, sponsorizzato dal colosso orientale delle due ruote a pedali. 6 milioni di biciclette annue, con le mountain bike in assoluta evidenza e all'avanguardia anche sul piano tecnico. A differenza di tutti gli altri telai che sono dei gusci uniti, questo nasce da un filo, che è un brevetto assolutamente il solo Giant, nasce da un filo che si attorciglia, che gira, che fa e poi gli viene messa una resina. Le biciclette di serie usano una leva come questo, come cambio, invece noi, se lei nota, abbiamo un manettino particolare. Non esiste più la leva del cambio, ma abbiamo fatto un adattamento per poter alleggerire. Speciale è la bici, ma anche il motorhome, come conferma Monica Loesch. Siamo trovati qua dal nostro concessionario, la Obica Rovamoto, dove oggi consegniamo ufficialmente l'Arto 79L, che userà per i prossimi mesi, i prossimi due anni, il gruppo Giant Italia Team. che ce ne illustra gli interni, l'armadio, la dinette, camera da letto e lavabo e toilette con WC a scomparsa. Poi arrivano i giovani campioni, che i camper lo useranno e l'atmosfera si ravviva. Lo spagnolo Ivan Alvarez Gutierrez presenta l'avvenimento con fare disinvolto da vero presentatore. Siamo qua per questo programma che abbiamo, questa sponsorizzazione di questo nuovo marchio che avremo di camper per questo anno 2011. Ci piace tantissimo questo nuovo impostamento che abbiamo con il nuovo mezzo e come vedete è rimasto anche bellissimo come hanno fatto tutte le scritte e tutto. Niente, partiamo di qua la stagione per vedere se riusciamo a fare dei belli risultati per fare anche grande questo marchio, farlo girare e crescere tantissimo in Europa e anche nel mondo. E l'italiano Diego Rosa, che è più giovane, un po' meno. L'ho visto per la prima volta il mezzo, è davvero bellissimo, ma anche come grafico esterno non l'avevo ancora visto, speziale e speriamo di poter fare buon uso in questi due anni e vi ringrazio per la parte di tutto il team. Il gruppo si compatta, come nelle gare in bici, per le foto di Rito, sul podio ideale della famiglia Peretti, sotto gli occhi di Cinzia che dirige le danze, e del decano fondatore Babbo Peretti, che tanti anni fa con due amici camperisti fondò, per Hobby, la concessionaria che ci ospita, destinata a tanto successo. La Hobby Tarla Mollo Si, siamo liberi di girar se vuoi dove noi sognamo La Hobby Tarla Mollo La Hobby Tarla Mollo